Ciao a tutti! Allora, scusate lo stato, le mie occhiaie e tutto il resto, ma mi sono ancora struccata da oggi pomeriggio alle 2, quindi sono ancora con il trucco a sfatto e l'uquefatto. Oggi sono uscita con una mia amica, la saluto, ciao Chiara, perché lei guarda i miei video su YouTube. E siamo andati da Ticotà e da Scarpe Scarpe da OVS. Abbiamo cercato anche di andare a un negozio bio che c'è qui nelle vicinanze, ma purtroppo era chiuso, quindi non siamo riuscite ad andarci. Siamo stati appunto da Ticotà, a parte il ridere perché era praticamente alla ricerca dei vari inci, di vari prodotti, quindi noi che leggevamo gli inci vari, quindi è stata una cosa abbastanza divertente e esilarante. Da Ticotà abbiamo preso diverse cose che erano in offerta, c'erano delle buone offerte, lei ha preso anche dei prodotti che normalmente costano abbastanza, per esempio ha preso un siero alla bava di lumaca, con addirittura la bava di lumaca in secondo ordine nell'inci dopo l'acqua, il che fa capire quanta alta concentrazione avesse la bava di lumaca e l'ha presa a un buonissimo prezzo. Quindi siamo andate appunto alla ricerca di buoni affari, ecco. Allora, io cosa ho preso? Ho preso questo bagno doccia panna e fragola della Chupa Chups. Allora, il profumo è divino, semplicemente, l'ho usato, ho fatto la doccia e il profumo è divino. L'inci non è malvagio perché non contiene sless, non contiene parabeni, non contiene paraffine, il 95% degli ingredienti è di origine naturale, quindi è un ottimo prodotto. E questo l'abbiamo preso circa 3,58€ per un litro. L'odore è spettacolare. La marca è questo Admiranda, che penso sia una marca di prodotti che si trovano, perché c'erano anche quelli con le bottiglie, con i supereroi, quindi è una marca che fa questo tipo di prodotti così, con questo packaging così un po' particolare. Ora lo sposto un attimo. Poi cosa ho preso? Ho preso la cera a freddo, questa allo zucchero. Allora, io non faccio la ceretta, quella a strappo, a caldo, perché mi crea dei problemi di circolazione alle gambe e dei traumi abbastanza importanti. Ho fatto la ceretta a caldo una volta sola dall'estetista, mai più. Mi ha lasciato dei lividi enormi, un dolore inimmaginabile, da allora mai più. Io per zona baffetti, sopracciglia, anche se non si dovrebbe, perché dicono che cala la palpebra, ma io l'ho sempre fatto, non mi è mai successo niente, quindi io uso quella a freddo, quindi le striscette preparate, diciamo, che le scaldate leggermente tra le mani e le applicate. Questo è lo stesso principio, però anziché essere già stesa sulla striscetta, è in barattolo, quindi c'è la sua spatolina per applicarla. E il barattolo è questo qua, quindi voi questo qua lo scaldate in microonde per pochi secondi, giusto per ammorbidire la cera, per poterla stendere. Stendete con questa spatolina, quindi dove vi interessa, quindi sulle sopracciglia o sui baffetti, io non faccio altre zone del corpo perché per le gambe uso il silk peel, per lingui nelle ascelle uso il rasoio, me ne frego assolutamente perché non voglio soffrire. Quindi applicate, applicate le sue striscettine che ci sono in dotazione, qui ve le faccio vedere, quindi ovviamente se dovete fare piccole zone ritagliate perché qui sono le strisce quelle grandi e non è, diciamo, è uno spreco, ecco. Quindi ritagliate il pezzettino che vi occorre, la applicate e strappate come è. Sono curiosa di provarla perché questa è la cera a freddo, proprio si chiama così, cera a freddo. Quindi senza che debba essere riscaldata con lo scaldacera classico o quello a pentolino o quello elettrico, insomma lo scaldacera che è quello classico che tengono le estetiste. Poi cosa ho preso? Ho preso una nuova linea che si chiama Naturalium, senza slesse, senza parabeni, questo lo vedete qui, ecco, scusate, sono un disastro. Ecco, zero parabeni, zero coloranti, zero flattati, stalati, scusate, flattati, ma dove è venuto? Zero stalati, niente fenoxietanolo. E questo non contiene, non contiene praticamente dimeticone, non contiene derivati del petrolio, petrolati, parabeni, paraffine, tutto quello che io non uso come sempre. Questo qui è al melone, non l'ho ancora aperto perché non voglio fare partire il pao, perché ho quello lì che è un litro, quindi l'ho aperto per fare la doccia e tengo quello lì. Questo qua praticamente è al melone, quello, no in Sicilia lo chiamiamo cantalupo, io non so voi come lo chiamate, comunque è il melone praticamente, quello giallo, arancione. Ed è costato poca roba, sempre intorno ai 2 euro più o meno, scusate, come al solito non mi ricordo bene i prezzi. Comunque, era in offerta, lancio, perché queste sono nuove. E c'era anche lo shampoo, shampoo, crema corpo, insomma c'erano varie cose, io l'ho preso soltanto in bagno schiuma perché di crema e corpo e company ne ho una marea. Poi ho preso il gel detergente rivitalizzante Skin Up Till della Garnier. Questo è costato circa 2 euro, sempre più o meno, siamo là, 2 euro e qualcosa. Questo è perni normali o miste da risciacquare, senza perabeni, senza siliconi, senza coloranti sintetici. Questo ha un ottimo 996% di ingredienti naturali, fa parte della nuova, sempre la nuova linea natural, quella che ha fatto la Garnier, quella che ha la crema che ho preso, quella al miele. Stesso principio. Questo è il gel detergente rivitalizzante all'aloe vera. Poi ce n'era anche un altro purificante, ma fondamentalmente a me non serve purificare perché io non ho grossi problemi. L'ultima cosa che ho preso da attività, ho preso due maschere di queste della Seven Heaven. Questa cioccolato, cioccolato antiossidante e questa esfoliante al miele. Queste sono state 1 euro e 99. Queste hanno un prezzo mediamente alto come maschere monodose, che poi non sono monodose. Con una maschera del genere ci fai due o tre, anche tre applicazioni. E queste, siccome io ero curiosa di provarle, ho finito quelle della Geo, ma l'ho detto, ok, prendo queste e vediamo come mi trovo. Poi siamo state da OVS e da Scalpe Scalpe. Perché abbiamo guardato un po' la Essence, così è giusto per guardare. Allora, c'erano cose della nuova linea, ma voi conoscete bene, io guardo gli ingredienti e mi ritiro. Perché c'erano un sacco, un sacco, un sacco di cose, ma purtroppo gli ingredienti non erano granché. Però c'erano queste a 1 euro e 29. La All About Rose, adesso vi faccio lo swatch, è la All About Grey. Allora, queste a 1 euro e 29, normalmente sono 5 euro. Queste a 1 euro e 29 erano un buon compromesso. L'inci è quello che è, ma amen, c'è un po' di paraffina. Ma come ombretti io cerco di stare attenta un po', però, visto che non va proprio nella zona dove si rischiano come i doni, può anche andar bene. Allora, vi faccio gli swatch. Sono curiosa perché... Uuuuh, pigmentatissimo. Guardate il viola glitter com'è pigmentato. Ci sono dei glitter, sono abbastanza pigmentati, dei glitter e dei matte. Allora, i glitter sono molto più pigmentati rispetto ai matte. Vedete come sono brillanti? Mi piacciono, mi piacciono veramente tanto. Stupidamente non mi sono portata dietro la salvietta per pulirmi. Vabbè, faccio... Utilizzo anche le altre due dita per swatcharvi. Di questa All About Grace, mi piaceva tantissimo questo grigio glitter. Lo vedete come è sbrilluccicoso. Uuuuh, è un po' polveroso. È un po' polveroso, però sbrilluccica abbastanza bene. Però, purtroppo, questi qua hanno la particolarità. E mi piaceva anche... Vediamo se riesco a pulire... Ecco. Mi piaceva anche questo grigio... Bellissimo. Ve lo metto qua. Guardate che bello questo grigio. Guardate come sbrilla. Non so se riuscite. No. Ecco. Questo grigio spettacolare. Brilla tantissimo. Questo si può utilizzare per fare tutta la palpebra... La palpebra mobile. Vediamo in ultimo questo... Uuuuh, bellissimo. Allora, di questi qua illuminanti... Lo sbrilluccio qua. Di questi qua illuminanti... Però non si nota tanto, purtroppo. Si nota lo sbrilluccicchio leggero, ma ovviamente... Con questa luce sparaflesciata qua. Questi qua illuminanti. Cioè, il bianco matt e il bianco shimmer. Questi qua sono molto pigmentati. Allora, le palette della Essence sono un buon compromesso qualità-prezzo. Perché, se vedete, sono belle pigmentate. Questo è il grigio, chiaro. Il grigio scuro glitter. Il viola glitter. Sono ben pigmentate. Non costano una cifra esorbitante. Perché 1,20... Vabbè, normalmente costano 5 euro. Ma 1,29 euro le ho prese tutte e due, infatti. Perché... E sono piccoline perché, siccome tra due settimane parto... Volevo portarmi qualcosa di piccolo e compatto. Senza dovremmi portare le palette grosse così. Perché non ho spazio. Perché ho solo il bagaglio a mano. Quindi, mi porto qualcosa di piccolo e compatto. E queste sono perfette. Perché ci sono tutti i colori che io normalmente utilizzo. E sono piccoline e più compatte da potermi portare in giro. L'ultima cosa. Chiara mi ha portato un pensiero. È stata in vacanza. E mi ha portato un pensiero bellissimo. Che io ho apprezzato tantissimo. Grazie tesoro. Ti ringrazio anche qua. Mi ha portato una marmellata artigianale. Buonissima. Fragola e lampone. Questa verrà sacrificata all'interno di una crostata. Buonissimo. Bene. Io ho concluso. In settimana avrò un sacco di roba da fare. Quindi non so se riuscirò a fare video. Se riesco a fare qualche video. Lo farò. Io vi saluto. Vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao. Ciao.